Si consuma un ulteriore addio in casa Fasano. Dopo quattro anni di continuata militanza saluta i colori biancazzurri il capitano Leo Serri che nel breve si accaserà al città di Mola. A comunicare la fine del rapporto lo stesso centrocampista con un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Preoccupazione tra i tifosi fasanesi ma nei prossimi giorni la situazione dovrebbe assumere contorni più limpidi. Nel breve infatti verrà indetta una conferenza stampa finalizzata a fornire aggiornamenti circa il futuro calcistico all'ombra della selva. Primi due squili di mercato per la Fidelisandria. Giungono alla corte di Panarelli il centrale di difesa Simone Giuliano classe 97 proveniente dal Marina di Ragusa e dalla sinistra classe 2000 Manuel Minacori ex Olimpia Agnonese. Saluterà Gravina il centrocampista spagnolo Prosi prossimo ad accasarsi all'ambiziosa Slai Trani. A proposito di eccellenza il Barletta mette in cascina il secondo colpo di mercato. Si lega Biancorossi il difensore Giannicello reduce dal bienno di Brindisi. Il Martina ha individuato il successore di Caroli. A guidare Biancazzurri in panchina sarà Massimo Pizzulli. Accorato invece fa ritorno Giuseppe Scaringella. Il presidente Maldera scottato dalla mancata missione in D resterà al timone neroverde incentrando il nuovo progetto tecnico però sulla crescita dei giovani. Grazie.